Raga, ho portato GTA ma mi dovete dire nei commenti se si vede bene L'ho portato perché, detto che avevo la possibilità, ho registrato però, ripeto, se si vede male Pazienza, ma provo a cercare con un'altra applicazione, andando all'asma Lasciamo 15 leaks E sarà un prossimo video che sarà sicuramente un bacco venendo in equilibrio Salve a tutti ragazzi, sono Gianmiki, 14 e bentornati Oggi sono due video che registro, ma io non so quando li vedete Comunque va bene, oggi sono qui, raga, GTA Online, me l'avete chiesto in tanti E beccatevi! Aspetta un attimo che... Comunque raga, partiamo con stile Facendo cose belle, perché Quindi partiamo subito, scendiamo da questa grande cosa Oh mio dio, adesso muoio male, esplodo in due pezze E oh, porca miseria Ve lo fa qualche deathmatch, ma non mi arrivano notifiche, quindi mi scoccio a fare Quindi aspetiamo che mi arrivano notifiche Ok, caspita, oh! Porca di quella Eeeh A me le moto piacciono particolarmente, quindi se adesso tu... Allora, andiamo a cercare qualcuno online, però mi devi dare la moto Cioè, dove è andato, raga? Raga! Oh! Oh! Non mi devi ammazzare! Ti spaccolo, ti spaccolo faccio, capito? Ok, vai! Perfetto, partiamo subito così di cattiveria Ehm, fermiamoci e tengo per la polizia Fermiamoci E fermiamoci un attimo a fa' una cosa Allora, vediamo un po' dove possiamo andare Ehm, andando andiamo a fare... Ehm... No! Che cosa era questa cosa, raga? Mango breakdance, voglio... Mango, mango, mango Mango breakdance Vai, comunque, vai Fuga dalla polizia fatta Eseguita, più caldo Vai, 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 raga Mamma mia, mi sento proprio carico Vai, vai, vai GT Aaaaaah Vai, vai, cominciamo subito Ma non mi interessa che non riesci... Preparazione, evasione, autobus Dirottare un autobus Penitenziario Ehm, scortarlo dopo averlo usato nell'evasione Raga, questo è il penitenziario De 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 Bo Che tipo dirà tante stille E quindi Se magari riesci a trovare dov'è il fort zancudo Andiamo E quindi, raga Passiamo subito Persone che tossiscono Ma non ci fate caso Ok Muoviamoci che mancano un chilometro e qualcosa Se magari non troviamo... BASTA! Se magari non troviamo qualcuno che ci vuole scorciare Raga, allora Si stanno inseguendo e si stanno malmenando Quindi io vado a mettere zanzania Perché io... Shhh Raga, raga Ce n'è uno, ce n'è uno Raga, raga, raga Raga No, raga Raga No, 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 no No Via, 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 via Questo mi vuole inseguire, raga Raga, non mi prenderà mai Non mi prenderà mai Lo spero Non mi... Raga, mi stanno inseguire Raga, mi stanno inseguire tutti e due Io ho solo una moto Cosa faccio? Cosa faccio, raga? Dai, dai, dai Via, via Gira, gira, gira Guardali, guardali Ti stupidi Vado dritto, raga Vado dritto Per forza, per forza Vado dritto Dritto Vai, non li posso affrontare Perché sono due Magari Basta, polizia Dai, però Ho solo sparato Cioè, voglio dire Devo fare una cosa tipo Tipo Fast and Furious Devo togliere il marker Che poi mi dà fastidio Ok Non lo rim... Sono morto da... Sono morto un botto Sono morto un botto Sono morto un botto Sono morto un botto Zitti tutti, capra Ok Macchina da polizia Sono morto un botto, raga Ok Meno male che sei imbambolato Quello con la polizia Via, 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 via Basta che non mi... Non mi bucano le ruote Ed è fatta Vai schifoso che non mi hai visto Grande genio No Ok È fermo come un idiota No, c'è da... Non ho parole Via, 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 via Dai, dai, dai Un po' di... Un po' di Fast and Furious Che vuoi, gamer? Mori, gamer Mori No, no, basta Mamma, non, levatevi Togletevi Via, 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 raga, via Pum Via Raga, è glitchato tutto il mondo Raga, è tutto glitchato Raga Sta glitchato tutto Raga Ok No, era un attimo Glitchato tutto Caspita È che caspita Oh mio Dio Bella Fossefurus Beh che cosa caspita Stai a fare Ok Stiamo scappando Scampando Stiamo scappando dalla polizia Però il problema adesso è The Game E Quegli altri là Trio Eh L'ho capito Comunque raga Mi esce sempre che non mi riesci a salvare Tua sorella Ma non mi interessa a me Ok Non l'ho ucciso Perché è scomparso Ok l'ho ucciso Ma è scomparso E il code Che che è sta cosa raga Ok è là Non so per quale motivo è là Comunque Via via Mi hanno ucciso Cioè l'uccisione è malata da qua Quando io non è vero che l'ho ucciso qua Vabbè No 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 Ti prego ti prego ti prego Levati Ok No dai Maledetta polizia Allora Consigliatemi Quante cose possiamo fare Tipo Adesso io provo ad accettare Un death match Se mi arrivano Se mi arrivano magari Notifiche Via 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 Ok Comparsa la macchina E t'ammazzo Ok T'ammazzo proprio Perché mi fai schifo Prendiamo Una macchina Volevo fare Volevo fare qualcosa Tipo un death match Però quello di prima Non volevo fare Però adesso Te te levi da Nandi Ok Povera persona Ti ho ammazzato qua Però Se adesso mi arriva qualche Notifica E fai proprio schifo I cani Prendilo Ha preso brutto Però ha preso Oh esplodo Ok Perfetto Adesso se mi arriva qualche Magari Notifica Di uno che vuole fare Vuole fare cose Non io sto Aia Il treno merci Oh raga Sono salito Perfetto Questo è il mio intento Perfettissimo raga Adesso dobbiamo Fare parkour Quindi Ok Vai raga ci siamo Non girare Non fare cose strane Per favore Vai Ok Piano 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 Un altro saltino Ok perfetto Rimani qui Rimani 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 Devo uccidere un attimo Il conducente No che che ospitare È un glitch È tutto un glitch Raga Raga O non lo prende O non lo prende Comunque vai Ci siamo Cerchiamo di rimanere Sopra Comunque mi sta vedendo La polizia Quindi vai Solo io Sti posti Non l'ho mai visto Ah no Ok Perfetto Frena Caro treno Sto schifoso Aspetta un attimo Che Faccio vedere io No Oddio Ok Non so dove sono Però Ecco il conducente Se riesco a sparare Magari Dai No raga Devo andare più indietro Raga Sono rimasto Un po' Catastato Dai Ok Ci sono Devo riuscire Solo a sparare Il conducente Maledetto Ok L'ho pegato Ma mi sa che Non è che si Mi sa che non si Ferma Comunque No raga Non si ferma Ok Penso che si ferma Oh no Ma fai schifo Ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Fai le deathmatch Andami Perfetto Tu non devi chiamare Tu non devi chiamare la polizia Capito? Tu sei chiamare la polizia Sei morta Capito? Sei chiamare la polizia Sei morta No Un po' di sparatori Raga Attacco banda Vai 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 Attacco banda Raga Attacco banda Mi sento carico Fammi un attacco banda Raga Dai è così Ok Sì Voglio eliminare i membri Però Mi dovete far vedere Perché mi sfugno in due Vedi capito? Ok Raga Mi sa che è partito un po' Ok Ok Perfetto Attacco banda Vai Tutto partito 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 tutto Vai Vai Raga Perché ti spacco tutto Ti spacco Ti spacco Ti spacco Raga Ti spacco Vai Ti spacco Ti faccio vedere io Ok Oh 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 Mori tu Oh Regà 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 Ok Perfetto Ok E sto schifo Perfetto Vai Un'altra kill Bellissima Regà Dai fatti vedere Fatti vedere Ciuccio Fatti vedere No 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 Regà Regà Non compare Al mio Tre Uno Due Tre E sto schifoso Vai Sei fuori nemici Ho capito Però Li prendo io Li prendo io Vai Headshot Bello 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 Ok Deve uscire Deve uscire Headshot Headshot Non è un headshot Però va bene lo stesso Vai carica Carica Veloce Veloce Cambiamo arma Mettiamo Carabina speciale Vai Spacco tutto Spacco tutto Boom Esplodi Maledetta Ok Ok Un'altra esplosa Vai Vai Che mi sento carico Dai Dai Sali 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 Perfetto Bellissimo Cambiamo arma Vai Vai Ok Bella 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 L'ho preso L'ho preso L'ho preso Perfetto L'ultimo nemico Dai Dai Famo Assassin Creed Famo Famo Assassin Creed Famo Assassin No No Amico Mio Dai Te la faccio Con classe Questa Tac 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 Bella E completiamo L'attacco Banda Grandi Ok 15 giugini totali Colpiamo la testa Erega 8 colpiamo la testa E 500 E siamo al rango 26 Comunque 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 Dai è così Sono al rango abbastanza basso Però Ci giocavo veramente poco Comunque dai La butta che siete Raga Sedia freak challenge La creo io Sta challenge Vai Raga Raga ma È caduta Come una sedia normale È rimasta tipo Vale come Vai Beh non lo so Comunque vai Vai Raga mi sa che l'ho fatto Ma si sono persi un po' di pezzi Comunque Comunque Questa sedia sarà Proprio il simbolo del mio canale Fino a quando non si romperà Mi sono appena sentito sopra E non è proprio la cosa più sicura del mondo Comunque Ok Ritorno a GTA online Come potete vedere E Non lo so Non so Cioè guardate un po' Non ho capito il motivo Comunque perché Comunque io spero un po' di persone E Non so Ci vediamo al prossimo video Magari Volevo dirvi che Per altri video di GTA Dovete lasciare Qui 15 Sì 15 E muori Cioè raga L'aggato malissimo Lasciate 15 like Per un prossimo video È un grassone Quello E raga È un glitch Quando li uccido Fanno tipo uno scatto Tipo E poi muoiono Tipo aspetta Se trovo una persona Tipo quella Ok questa no Evviva Raga l'ho sparato Si è rialzata L'avete visto Ok adesso no Rialzati Che ti ammazzo Adesso tutti i jesus E Vabbè Ok Comunque ragazzi Dovete lasciare 15 leaks Per un altro video di GTA Però Non ho la storia Che è inutile Però almeno online Questo tipo di cose Che avevo fatto prima Però poi Volevo fare una steam stand Ma Magari era Un coreano Che Alla connessione del cinese E mi ha fatto tornare A GTA E quindi Questo E per un altro Consideratemi qualcosa Da fare Qualche death match Possiamo farlo Anche E La steam stand Comunque Raga Bella riga Iscrivetevi al canale Lasciate il like Tattico E bello Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti